50 anni di storia 50 anni di storia 50 anni di storia la Santa Messa preseduta dal Vescovo Armando Vediamo il servizio In questa settimana vogliamo fare memoria della storia di questa parrocchia fondata nel 1968 Ai ragazzi abbiamo presentato questa ricorrenza come un compleanno, una festa di famiglia, di una realtà di cui facciamo parte e che ci appartiene 50 anni di storia sono 50 anni di vicende, di volti, di persone, di storia, di santità E a noi fa bene oggi farne memoria non per vivere un momento di archeologia o di storicismo Ma perché il Signore possa ravvivare in tutti noi la fede, la speranza, la carità Per vivere la parrocchia oggi, rispondere oggi alla chiamata del Signore E per seguire oggi gli obiettivi della trasmissione della fede e del vivere la fede Così Don Federico Tocchini, parroco di Centinarola e Rosciano Ha esordito sabato 17 novembre in occasione dell'apertura della settimana di festeggiamenti Per il cinquantesimo anniversario dell'istituzione della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Centinarola E proprio sabato 17 novembre è stato il Vescovo Armando a presiedere la celebrazione eucaristica Per valutare le cose in profondità senza lasciarsi ingannare dalle apparenze Ha sottolineato il Vescovo riflettendo sul Vangelo della Domenica È necessario che l'uomo di fede, il discepolo, esca dai tempi brevi e spinga lo sguardo lontano È per questo che l'ultimo discorso di Gesù non parla direttamente della croce Cheppure continua ad essere in qualche modo presente Ma del ritorno del figlio dell'uomo in potenza e gloria Non si può negare, ha proseguito il Vescovo, la comunità cristiana verrà a trovarsi situazioni difficili In simili situazioni il discepolo può trovarsi frastornato, deluso, toccato dal dubbio Che la croce di Cristo sia un fatto sprecato e impotente Il mondo sembra infatti continuare come prima con tutto il suo carico di odio e di errori Quali sono dunque le raccomandazioni di Gesù? Non allarmatevi, non preoccupatevi, pregate, siete attenti Atteggiamenti facili a dirsi ma difficili a praticarsi Impossibili se non si è sostenuti da una grande fede E Gesù aggiunge Il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno Ritengo che sia l'ultima consegna di Gesù, il punto fermo Che giustifica ed esige nel discepolo serenità, fedeltà e certezza Che il figlio dell'uomo ritornerà e che l'avvenire a dispetto di tutte le esperienze contrarie È saldamente nelle mani di colui che fu crucifisso Un Vangelo sulla crisi e insieme sulla speranza Che non intende incutere paura, che vuole profetizzare non la fine ma il fine Il significato del mondo Se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce Dopo la riflessione sul Vangelo il Vescovo si è soffermato sui 50 anni della parrocchia Ricordando che bisogna vivere di presenza con i piedi radicati In 50 anni è cambiato il mondo, corre imparare a pregare La preghiera dell'ascolto, della lezione, della contemplazione e del silenzio Inoltre c'è bisogno di libertà nella parrocchia Ovvero dare spazio, far crescere la comunità Pensare al futuro viaggiando nel presente Dobbiamo essere, a concluso il Vescovo, credenti, credibili e contenti E dalla parrocchia di Centinarolo ci spostiamo ora all'Istituto Tecnico Don Orione di Fano Dove venerdì 16 novembre si è aperto il percorso di formazione all'impegno sociale e di cittadinanza attiva Nel primo appuntamento si è parlato dei 17 obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile Primo appuntamento molto partecipato della scuola di formazione all'impegno sociale e di cittadinanza attiva Venerdì 16 novembre all'Istituto Tecnico Don Orione Introdotto da Gabriele Darpetti, direttore dell'Ufficio Pastorale per i problemi sociali e il lavoro Il relatore Pierpaolo Bellucci si è soffermato sui contenuti dell'Agenda ONU per il 2030 E i suoi obiettivi per lo sviluppo sostenibile Durante la serata si è cercato di riflettere sulla situazione sociale ed economica del pianeta E sui programmi che molte nazioni hanno già avviato per tentare di arginare Un contesto che rischia di precludere un futuro dignitoso a milioni di persone Il mondo si sta avviando verso una situazione di non sostenibilità ed occorre urgentemente cambiare Fra i 17 obiettivi vi sono il porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare Migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine Per uno sviluppo sostenibile, rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale Per lo sviluppo sostenibile Nei prossimi appuntamenti verranno affrontati 5 degli obiettivi presi uno per uno dai diversi relatori Per capire a che punto sta il nostro territorio rispetto appunto a questi obiettivi E che cosa ciascuno di noi può fare per contribuire a raggiungere i risultati auspicati E cambiamo argomento in occasione della giornata nazionale contro la solitudine della persona anziana Giovedì 15 novembre si è tenuto a Fano un convegno organizzato dalla cooperativa sociale Labirinto Dal centro di urno servizi integrati per l'Alzheimer e demenza Margherita Con il patrocino dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Fano E la collaborazione della nazionale italiana Cantanti E la fondazione Cassa di risparmio di Fano I dettagli nel prossimo servizio Stimolare le persone anziane per fare in modo che non trascurino le diverse occasioni di socialità del quotidiano E manifestino richieste di supporto inducendo la comunità a costruire ponti tra uomini e donne Questo è l'obiettivo dell'incontro Handle Allness tenutosi giovedì 15 novembre In occasione della giornata nazionale contro la solitudine della persona anziana Ad aprire la serata Fabiola Pacassoni coordinatrice del centro di urno Margherita Che ha sottolineato come il tema della fragilità riguardi tutti La parola è poi passata all'ingegner Fabio Tombari Presidente della fondazione Cassa di risparmio di Fano Che ha sottolineato come la solitudine degli anziani sia una tematica quanto mai attuale Simona Giomi, presidente della cooperativa Labirinto Ha auspicato che questo tipo di incontri possano diventare una piattaforma Da cui partire per realizzare nuovi progetti Ospite d'eccezione il cantante Paolo Belli Che ha toccato alcune tematiche molto profonde A cominciare proprio dal potere salvifico della musica Gli anziani ha messo in evidenza Belli Ci hanno insegnato la bellezza dell'aggregazione e dello stare insieme Il cantante ha ribadito l'importanza di non lasciare soli gli anziani Bisognerebbe portare gli anziani nelle scuole Così che i ragazzi possano ascoltare le loro storie Un patrimonio inesauribile di esperienza Presente anche il sindaco di Fano Massimo Seri Che ha ribadito l'importanza dell'anziano Quale patrimonio straordinario per una comunità E l'assessore alle politiche sociali Marina Barniersi Che ha sottolineato come il fenomeno della solitudine Stia diventando sempre più rilevante La professoressa Donatella Pagliacci Docente di filosofia morale Presso l'Università di Macerata È entrata nel vivo della serata Relazionando sul tema Narrare la solitudine per uno sguardo Un ascolto dell'altro Ha iniziato il suo intervento proprio elencando Quattro forme di solitudine Quella di intimità, di autoisolamento, di abbandono E quella digitale Quella di intimità è una solitudine positiva Un ascoltare ciò che siamo veramente Un lasciare spazio alle nostre emozioni E ai nostri bisogni L'autoisolamento è quella condizione Che viviamo quando ci sentiamo inadeguati Quando pensiamo di non corrispondere Alle aspettative degli altri Nelle condizioni di massima fragilità Sviluppiamo un meccanismo di autoisolamento E che comporta un aridimento della persona La solitudine da abbandono È una condizione che riguarda tutti E per questo dobbiamo educare i giovani Vivere il distacco in modo sano L'ultima, la solitudine digitale Molto diffusa anche tra i meno giovani E crea spesso fenomeni di dipendenza E di abuso del mezzo digitale È una solitudine a cui bisogna porre La massima attenzione Come poter avvicinare La dimensione di solitudine dell'altro Per incontrare l'altro Si è chiesto alla Pagliacci Innanzitutto con l'empatia Con lo sguardo Perché anche dal nostro sguardo Si può dare valore all'altro E con l'ascolto attivo Sospendendo la tentazione Di dare soluzioni ai giudizi Ma accogliendo l'altro Con la verità del suo essere La serata si è conclusa Con l'intervento di Fulvio De Nigris Direttore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna Sul tema La solitudine genera l'innovazione Buone pratiche di cura De Nigris ha raccontato ai presenti La solitudine di due genitori Di fronte allo stato di coma In cui versava il figlio A loro essere impreparati Alla situazione Alla speranza E alla voglia di mettere a frutto La loro esperienza per altri Bisogna coinvolgere A concluso De Nigris Anche coloro che non sono Direttamente coinvolti E comunicare il coma In maniera corretta Gli inguaribili Non sono incurabili Un sogno che finalmente Si realizza Una scuola professionale Per dare un futuro dignitoso A tanti giovani burundesi In particolare ai pigmei Con queste parole Don Giancarlo De Santi Direttore del Centro Missionario Diocesano Ha annunciato la partenza Di alcuni volontari Per il Burundi Per inaugurare La tanta attesa scuola Dei mestieri Che appunto verrà inaugurata Il 24 novembre Vanda Dama Bruno Rovinelli Saurus Ecchiaroli Marta Sbrega Gabriele Ceccorulli Loris Rossi Eleonora Bordoni Nicola Di Simone Questi sono i nomi Dei volontari Partiti Insieme a Don Giancarlo Per Gitega In Burundi Un viaggio atteso da anni Per poter aprire finalmente La scuola Un progetto sostenuto Dall'associazione Orucundo Onlus Che darà la possibilità A tanti ragazzi pigmei Di acquisire professionalità E imparare Un mestiere Un segno di condivisione Di cooperazione Che dà dignità E offre Un'opportunità vera E concreta Per emergere Dalla situazione Di disagio sociale E povertà Di questa popolazione Per oggi è tutto Vi ricordiamo Che è possibile Seguire il nostro TG Web Sul sito Fano di OcciTV.it Grazie per essere stati con noi E arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti